Mi trovo a Bari e oggi degli sconosciuti andranno a decidere gli ingredienti della pizza che andrò a mangiare Ok, ho fermato il primo gruppo di ragazze a caso, vai iniziamo, un ingrediente Sassettia Funghi Funghi Stracciatella Stracciatella Vamos, adesso andiamo a fare sta pizza porcosissima e se non sarà buona è colpa vostra Ovviamente poi per realizzarla Mi sono affidato a una delle pizzerie più buone di Bari Ovvero mozzarella e basilico E ammirate il capolavoro finale Andiamo ad assaggio, se non è buona sappiamo di che è la colpa Cioè raga, penso possa diventare la mia nuova pizza preferita C'è la tutta, la freschezza della stracciatella Qui ci sta la salsiccia bella succosa e i fiori di zucca a belli croccanti Mmm